Sartorius 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 E sulla tipa di Acireale creando appunto dentro Non in quello Che è troppo stretto E in un altro Sì, è riempito questo lato. Beh, in effetti è un po' pericoloso anche darci, cioè, faccio il segno. Vedete, è successo che la lava è arrivata fino in cima e ha buccato. Cioè, sembrava fatto dall'uomo. Sì. E ha buccato. Vedete. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.